È pieno di soldi là fuori, sai? E ne stampano altri ogni giorno. Ma questo biglietto... Ne esistono solo cinque come questo in tutto il mondo. E non ce ne saranno altri mai più. Solo uno scemo scambierebbe questo biglietto con una cosa comune come i soldi. Tu sei uno scemo? No, signore. Allora togliti il fango dai pantaloni. La fabbrica ti aspetta.